Ecco le prime immagini della 164, l'ammiraglia dell'Alfa Romeo che verrà presentata in settembre al Salone dell'Auto di Francoforte. Sarà equipaggiata con almeno tre motori, un 3000 a benzina, un altro propulsore a benzina 2000 di cilindrata, una versione 2005 turbodiesel. Sarà la prima auto a gasolio a superare i 200 km all'ora. Per l'87 il lancio della 164 sarà il momento centrale nell'attività dell'Alfa Lancia industriale, la nuova società nata il 1 gennaio dopo l'acquisizione dell'Alfa Romeo da parte del gruppo Fiat. La nuova società non solo manterrà separati i marchi e le reti di vendita Alfa e Lancia, ma anche i contenuti tecnici saranno differenziati. La conferma è venuta in occasione del lancio di nuove versioni dell'Alfa 75, un modello 2000 chiamato Twin Spark con controllo elettronico totale della combustione e sistema a doppia accensione, in grado di raggiungere i 205 km all'ora, e una versione con motore 3.000 a 6 cilindri destinata soprattutto all'esportazione, con una velocità massima di 220 km orari. Nel 1987 l'Alfa Romeo conta di incrementare le vendite di circa l'11% rispetto all'anno scorso e di raggiungere quota 200.000. Secondo le previsioni il 58% sarà destinato all'Italia, il 42% ai mercati esteri, il che segnerebbe un passo in avanti verso l'obiettivo di destinare alle esportazioni il 50% della produzione.